Com'è? Allora, com'è? Avere tutti questi amici, ma... È bellissimo. Dove è un antituale? Abbiamo... Non so, ma... Ci sta... Pronto? S.O.S. Solitudine. Sono Fausto, come posso esserti utile? Come S.O.S. Solitudine? Scusi, ho sbagliato il numero. Volevo chiamare i pompieri. Mi sta andando a fuoco il salotto. E si sente solo? In che senso? Sente il bisogno di qualcuno al suo fianco? Eh sì, dei pompieri. Ma non ha un amico? In questo momento sì, ma come non averlo? Oh, che tristezza. Rimanga in linea. Le passo l'interno desiderato. Pronto? S.O.S. Tristezza. Sono Fausto, come posso esserti utile? Senta Fausto, come dicevo il suo collega. Volevo chiamare i pompieri. Mi sta andando a fuoco il salotto. E prova tristezza? Eh, faccia un po' lei. Mi dica, sa da dove nasce questa tristezza? Dalle fiamme. Ho paura che qui mi bruci tutto. Ah, ha paura. Le passo l'interno desiderato. Pronto? S.O.S. Paure. Sono Fausto, come posso esserle utile? Mi brucia il salotto. E ho paura che mi bruci tutta la casa. Da quanto tempo ha questa paura? Eh, da quando ho cominciato a vedere il fumo nella stanza. E le capita spesso? No, è la prima volta. Faccio uscire l'autopompa. E ha avuto altre volte allucinazioni simili? Ma quali allucinazioni? Qui le fiamme sono tutte vere. Qui sta andando tutto a fuoco. Allora rimanga in linea. Pronto? S.O.S. Ligna Rovente. Ciao. Sono Fausto. Come posso esserti utile? Lasciandomi libero il telefono. Cavolo, mi va a fuoco la casa. Ma anch'io sono un bollore, tesoro. Ho bisogno dei pompieri. Ah, vuoi che mi metta in divisa? Vuoi che ti dica le parolacce? Ci devi solo provare. Ti piaccio. Oh, guarda. Mi trovi sexy? Sì, sei sexy come un bidet abbandonato in un prato. Cosa vuoi che faccia per te? Ti sculaccio. No, voglio che metti altri. Ti sculaccio. Metti giù. Metto giù io. Guarda. Ah. Che ho i pompieri. I pompieri. Pronto? SOS pizzeria. Sono Fausto. Chi parla? Ma come pizzeria? Ho fatto i centocedi. Mia mia casa brucia. È un inferno. Una diavola, poi? Ma quale diavola? Qui brucia tutto. Va bene, gliela faccio ben cotta. Ci vuole pure la birra? No, voglio l'acqua. Mi porti sta diavola e una cassa d'acqua. Da mezzo o intera? Da litro, gasata. Così quando arrivate vi rutto in faccia. Rimanga in linea. Acqua azzurra. Spendilo. Allora. Pronto SOS pompieri. Sono Fausto. Come posso esserle utile? Ah, finalmente ce l'ho fatta. Pronto signor Fausto. Mi sta bruciando tutta la casa. Ci sono delle fiamme altissime. Quanto alte? Non lo so. Saranno due o tre metri. È incerto. Vuole che le passi SOS misuro le fiamme? No, sono due metri, dodici centimetri, quattro millimetri. Sicuro? Sicurissimo. L'accendiamo? È già tutto acceso. Mi scusi, ma quando è cominciato l'incendio? Dieci minuti fa. Ma oggi? Certo, oggi. Allora noi non possiamo fare niente. E perché? Perché noi siamo pompieri, non pompogi. Se bruciasse la città...